Amici di Android Blog, dallo stand Winko del Mobile World Congress 2014, partiamo nel farvi vedere i terminali che già conosciamo in quanto sono già sul mercato per arrivare invece alla vera novità della gamma entry level di Wiko. Parliamo quindi del Berry, un entry level da 5 pollici che monta un processore dual core da 1.3 GHz, una fotocamera anteriore da 1.3 megapixel e una fotocamera posteriore da 5 megapixel. Finitura opaca, molto bella, sempre molti i colori sui terminali Wiko, sono davvero tanti le varianti del colore, diciamo che il colore la fa da padrone in questa nuova casa che davvero ci sta piacendo molto. Questo Berry che abbiamo con il menu in inglese presenta la versione in tedesco, abbiamo la versione Android 4.2.2 e comunque un'ottima fluidità nonostante il dual core data dall'assenza di ogni personalizzazione. Ricordiamo che la memoria disponibile può essere espansa tramite una micro SD fino a 32 GB. Quindi per la serie entry level di Wiko per ora è tutto, un saluto da Alessio per Androidblog.it